Serena, buongiorno, benvenuta a Riccione. Grazie, grazie mille e bentrovati. Stavo vedendo, intanto io sono un grande fan della famiglia Adams, da sempre perché sono cresciuto chiaramente con la storica serie televisiva e aspetto questo film d'animazione con il cuore, con il cuore nero, come dovrebbe essere. Benissimo. Vedo che c'è un titolo che è The Kill Team, potrebbe rappresentare il vostro team in questo momento nella rincorsa alla migliore offerta fino a Natale? Guarda, noi speriamo di continuare a essere protagonisti anche della seconda parte della stagione, come insieme ovviamente alle measure e agli altri distributori indipendenti. Abbiamo le carte in regola per esserlo, puntiamo ovviamente su Famiglia Adams, che è un grande classico dell'intrattenimento per famiglie, prodotto da MGM, uscirà appunto ad Halloween e vanta un cast inedito di doppiatori, tra cui Virginia Raffaele nei panni di Morticia e Raoul Bova in quelli di Zio Fester e per la prima volta sul grande schermo ci sarà Loredana Bertè a prestare la voce a Nonna Adams. Quindi sicuramente per noi questo film ad Halloween sarà una grandissima occasione per parlare al pubblico delle famiglie e non solo, e anche a tutti quelli come te ma anche come me che hanno amato questo film da ragazzi. Il secondo titolo su cui puntiamo, sempre in autunno, questa volta a fine novembre, invece è Midway, lo distribuiremo insieme a IEF Lucisano Film Group e la regia è di un grandissimo maestro che eccelle soprattutto nei film colossali e di effetti speciali, ricordiamo Independence Day, quindi aspettiamo Roland Emmerich e un cast straordinario, tra cui Woody Harrelson, Luke Evans, Aaron Eckhart, per parlare di una battaglia forse poco nota al pubblico italiano che è quella che si è svolta nell'arcipelago delle isole Midway durante la Seconda Guerra Mondiale e che Emmerich saprà raccontare in maniera davvero epica. L'offerta del secondo semestre comunque si arricchirà anche di titoli altrettanto importanti come l'horror The Lodge che uscirà a novembre e The Kill Team a ottobre e Resnake a fine settembre, due titoli ispirati a storie vere e ambientate in scenari di guerra che ci riserveranno, spero, grandissime sorprese al botteghino. Ma al di là delle potenzialità commerciali del vostro lavoro, che poi è quello di tenere viva l'attenzione del pubblico verso un titolo, tu da spettatrice, cos'è che ti riesce a sedurre di più in un film che vedi? Beh, da spettatrice quello che mi colpisce sono le emozioni, le emozioni che i film ci permettono di vivere in sala, perché per noi di Eagle il film è innanzitutto un'esperienza da vivere al cinema, quindi sul grande schermo. Per questo motivo abbiamo deciso di distribuire d'estate, fine estate, quindi primi di settembre, il 5 di settembre, Mio fratello rincorre i dinosauri, una storia davvero emozionante, un film, una commedia molto toccante, ispirato a una storia vera e è un libro che è stato un bestseller, scritto da Giacomo Mazzariol, omonimo come il titolo del film, interpretato da Alessandro Gasman, Isabella Ragonese, Rossi De Palma. Questo film uscirà il 5 di settembre, prodotto da Paco, e credo ci riserverà grandi, grandi sorprese, e sicuramente saprà coinvolgere tutti gli spettatori che come me amano le storie emozionanti e toccanti. Quelle che poi in effetti nell'esperienza collettiva della sala hanno un impatto, una risonanza diversa. Assolutamente, sì. Il cinema non è solo effetti speciali, come Eagle noi puntiamo sia sulle grandi storie e che sui grandi film, quindi Midway da una parte, ma anche film italiani come Mio fratello rincorre i dinosauri, saranno e sono per il grande pubblico l'occasione per uscire di casa e andare al cinema.